ciao benvenuti a cazzeggio catabiotero ciao benvenuti a un altro episodio di cazzeggio catabiotero anche questa puntatonea dal colore di retrocomputing oggi parleremo di atari 600 xl atari 800 xl atari 1200 xl che furono un enorme flop commerciale per atari attenzione gente che io di atari 800 xl ne ho un po già parlato sia rapidamente come macchina home computer sia come shock atari i podcast li trovate in descrizione nella playlist www fare retrocomputing.tk ecco ma in questa puntata noi parleremo più approfonditamente di queste tre macchine 8 bit home computer di atari che fu un enorme flop commerciale e sono quasi sconosciuti in italia e tutte e tre macchine atari poco note anche nel mercato nord americano perché finirono tutte ammazzate dall'ottimo rapporto qualità prezzo di commodore 64 che fu macchina contemporanea ed antagonista dunque tario 600 xl 800 xl 1200 xl furono tutte e tre macchina 8 bit i successori della tari 400 cos'era tari 600 ecco poi andremo a vedere tari 600 xl quanto 800 xl furono proposti sul mercato nord americano nel 1981 lontanissimo 1981 mentre l'atari 1200 xl fu offerto al mercato nord americano nel 1983 i prezzi delle tre macchine erano commercialmente stratosferici dalle due alle tre volte superiori rispetto a quanto prezzasse commodore 64 sul mercato nord americano quindi non è difficile capire perché commodore 64 sbaragliò tutte e tre le macchine atari queste tre computer 8 bit di atari sono sconosciuti anche in italia dove c'era anche l'aggravio in più che la lira era svalutata e rendeva molto problematico l'acquisto per i consumatori italiani di elettronica di consumo nord americana tanto che solo il commodore 64 risultava relativamente acquistabile in italia cosa era all'epoca tari 600 xl tari 800 xl tari 12 xl tari 600 xl aveva cpu 65c 02 ad 1.7 megahertz 16k di ram che però era espandibile sino a 64k poi c'era 24k di rom risoluzione video 320 x 192 a 256 colori sonoro quattro voci e 3.5 ottave chip audio e video dedicati gli stessi gli atari 800 sia antique gti app o che ipa ecco l'atari 600 solitamente fu quando fu acquistato prevalentemente utilizzato con un registratore però poteva essere attaccato a un disk drive atari 1050 da 525 tari 600 xl potremmo paragonare approssimativamente a un commodore 16 se il commodore 16 fosse stato compatibile con commodore 64 infatti atari 600 aveva la motherboard al primo piano tastiera al secondo piano dietro al case con un case appunto simile a quello del commodore 16 comodo 16 c'erano poi l'uscita composita o slot per la cartuccia oppure per l'espansione ram una porta parallela una porta seriale due spinotti per joystick note ovviamente alla presa per alimentazione e accensione il reset ed ovviamente l'alimentatore esterno questa macchina ne andremo ad osservare il suo manuale utente per renderci conto di cosa fosse atari 600 atari 800 ecco come potete vedere a video era un pochino diverso esteticamente rispetto ad atari 600 però ecco aveva la stessa motherboard differiva atari 800 xl da atari 600 xl per il fatto che atari 800 poteva essere espanso fino a 128k mentre atari 600 solo fino a 64 inoltre atari 800 xl era già venduto con 64k di ram e non in 16k dell'atari 600 xl mi avviso ecco il case dell'atari 800 xl estremamente simile a quello del case del commodore 64 anche di questa macchina andremo a sbirciare il suo manuale utente per renderci conto un po di cosa fosse l'atari 800 xl atari 1200 motherboard simile a quella di atari 600 xl ed ed 800 xl ma ecco sopra la motherboard furono apposte modifiche hardware veramente oscene che causarono incompatibilità frequenti con atari 600 e 800 dunque se potete vedere esteticamente il case atari 1200 era vagamente simile a quello di apple 2 ma atari 1200 era ben lungi da essere un apple 2 nonostante atari 1200 avesse la stessa cpu atari 1200 ingegneristicamente assemblato da dei dementi nella porta di espansione pbi invece di sostenere i 12 volt vi passavano solo i 5 volt e non si potevano usare le stesse cartucce di atari 600 e 800 inoltre atari 1200 xl fu dotato di un chip video che avrebbe dovuto migliorare il segnale della croma verso l'esterno dando così colori più vividi ecco ma questa aggiunta non fu collegata all'uscita video del computer quindi il segnale video risultò praticamente identico a quello di atari 600 xl ed atari 800 xl altre modifiche alla motherboard di atari 1200 xl resero impossibile l'utilizzo di alcuni modelli di joystick atari che erano già stati venduti sul mercato quali joystick però erano perfettamente utilizzabili su atari 600 xl ed atari 800 xl altra pecca o grave magagna di atari 1200 fu che puntavano frequenti incompatibilità software con i programmi per atari 600 xl ed 800 xl atari 1200 xl fu venduta al prezzo di 599.99 dollari non fu acquistata praticamente da nessuno in nord america e diciamo atari 1200 xl restò quasi totalmente una macchina invenduta ecco anche di questa macchina andremo a sbirciarne il suo manuale utente giusto per renderci conto un po' di cosa atari 600 manuale utente versione inglese è cortissimo solo 24 pagine lo andremo a guardare rapidamente questo praticamente lo potremmo un po' chiamare come il commodore 16 dell'atari se il commodore 16 fosse stato compatibile con il commodore 64 ecco questo poteva essere diciamo equiparato un po' al commodore 16 come si vede estremamente compatto una bella tastiera diciamo ergonomica ci aveva 16k poteva essere espanso fino a 64k il prezzo alto di questa macchina relegò praticamente l'atari 600 praticamente a morire affogato per mano del potentissimo commodore 64 andiamo a vedere cosa c'era in questo manuale eccolo qua prima pagina del commodore 16 uno di me e uno di qua come si vede praticamente viene presentato il computer con la tastiera il retro era qui in alto sulla destra diciamo era un tasto un po' più un po' più grande ma già che c'erano potevano farlo un po' più grande non è proprio a mio avviso ergonomico come avrebbe potuto essere il shift ad esempio sono molto più grandi come si vede potevano fare un retro grande almeno tanto quanto lo shift dato che il retro è un tasto importante vabbè non ci interessa andiamo a vedere qualcosa qui viene praticamente c'era lo spinotto seriale la porta seriale pardon qui c'era la porta dell'espansione qui c'era il vano dove ficcare eventualmente le cartucce poi cosa c'era? qui c'era il bipolo dell'accensione qui c'era l'uscita dei due joystick e l'uscita televisione e questo era un po' tutto quanto qui spiega riprende un po' questo manuale è molto simile al manuale quello dell'Atari 400 estremamente corto quasi un brochure qui spiega come collegare l'Atari 600 alla televisione quindi televisione di casa qui spiega un po' diciamo come utilizzare la macchina cosa servivano praticamente questi tasti diciamo tasti funzione che venivano inseriti qui nella tastiera che avevano specifiche funzioni test della memoria audio virtuale e via dicendo qui come inserire le cartucce tasti inserivano così praticamente a incastro e già automaticamente si era a posto poi venivano un po' altre cose i vari comandi AT questi ma questi diciamo prima si veniva spiegato alla tastiera cosa significa il tasto CTRL e via dicendo quindi proprio il minimo essenziale di questo manualetto come venivano spiegato c'erano chiaramente i tasti grafici i tasti font semigrafici pardon dentro l'asci che questo riprendeva un po' la cosa comune con il comodo 64 ma questo c'aveva 16K come il Commodore 16 che anche il Commodore 16 aveva i tasti semigrafici la tastiera era americana c'era praticamente la M qui niente da dire poi il FIP ha accennato un po' qualche comando diciamo del basic con le funzioni dell'editing che praticamente veniva fatto e con alcuni programmini proprio il minimo essenziale da inserire per avere un minimo praticamente di soddisfazione poi si doveva comprare in sostanza libra a parte ma no per metterci i joystick eventualmente una stampante una stampante con 16K non serviva una mazza però i joystick potevano andare bene il problema è che questa macchina era molto costosa il modem non ci serviva nulla e i disk drive ma insomma con 16K va bene che era espandibile a 64K però era molto costoso questo come computer quindi qui viene spiegato un po' come pulire la macchina un minimo di FAQ su cosa fare o non fare se ci sostituivano minimi problemi informazioni importanti da tenere presente e poi basta niente niente di più questo è un manuale estremamente essenziale ridotto all'osso però 24 pagine proprio per presentare la macchina giusto accenderla e metterci due o tre righe di programmini per avere un minimo di soddisfazione per giocare servivano le cartucce e poi oppure un registratore un qualsiasi registratore che poteva essere agganciato e poi niente da dire però 16K erano veramente pochi e non valeva la pena stare a comprare questa macchina perché veniva a costare di più di quanto costava il Commodore 64 che aveva il 64K è vero che il Commodore 64 doveva essere utilizzato solo esclusivamente con i dataset quindi c'era da comprare il registratore della Commodore che peraltro non era nemmeno veloce anzi era parecchio lento con una doppia conversione a logico digitale tuttavia indubbiamente c'era comunque 64K mentre questo praticamente costava molto di più di un Commodore 64 è vero che si poteva adottare con un registratore in sostanza qualsiasi registratore ma comunque gira e gira aveva 16K e costava di più di un Commodore 64 e con questo detto tutto andiamo a vedere la prossima macchina Atari 800 questo lo potremmo definire l'antic Commodore 64 di Atari c'aveva praticamente 64K era espandibile fino a 128K il case era differente se ci notate rispetto a quello dell'Atari 600 il mio avviso un po' più simile a quel Commodore 64 con uno spiovente un po' più grande un po' biscottone comunque andiamo a vedere anche questo manualetto estremamente corto ma anche questo computer finì affogato pur essendo praticamente l'antic Commodore 64 costava il doppio o il triplo di Commodore 64 e quindi di conseguenza morì affogato sotto il peso di Commodore 64 eccolo qua qui viene presentato l'Atari 800 anche qui con un grande Shift una bella fostiera economica una tastiera americana come si vede il tasto Return piccolino a mio avviso l'hanno anche questo ingegnerizzato un po' malino il tasto Return è sempre stato importante all'interno dell'interfaccia a linea di comando e non si apisce perché non l'hanno fatto grande almeno tanto quanto lo Shift che qui lo Shift è più grande qui anche questo è grande e facciamo il Return è un po' piccinino comunque pazienza anche qui in questione di gusti ci sono vari tasti funzioni che potevano essere fatti tasto Asset Option Select Start Help questi servivano per l'utilizzo anche delle cassette poi qui viene spiegato anche qui allo stesso modo qui abbiamo la porta la porta seriale qui abbiamo il vano per l'espansione che poteva essere portata la macchina a 128k quindi 64k con un'espansione da 64k poi abbiamo questa è l'uscita monitor questa è switchbox jack per diciamo connettersi il cavo alla switchbox quindi probabilmente ha un bel aggeggio uno spinottino da collegare alla televisione l'uscita per la tv lo switch per l'uscita della tv invece in RF questo è praticamente la cos'è questo? un uscito monitor e questa invece è la potenza quindi l'alimentatore e le due prese praticamente del joystick niente simile praticamente anche qui come attaccare il computer della televisione con la scatolina i pulsanti che venivano utilizzati quando si adobrava praticamente il registratore al collegato al registratore e poi vediamo un po' l'aggeggio dello spinotto ma dove cavolo era l'uscita per il registratore io ho chiacchierato a voto ma non l'avevo vista vediamo un po' qui c'è praticamente l'espansione espansione questa è la seriale questo è il telefono per la cartuccia questa jdb si è già detto lo switch box questi sono i controlli l'uscita tv monitor jack power port e il registratore dove andava ficcato probabilmente il registratore ci vorrà proprietario forse andava messo qui su questo aggeggio seriale ah si mi sa mi sa mi sa di si va bene poi prendiamo un po' qui come inserire le cartucce se non ho detto minchiate e poi i vari tasti della tastiera e shift control le varie combinazioni i tasti semigrafici è praticamente identico a quello all'atari 600 un programmino minimo indispensabile metterci joystick una stampante non serviva nulla un modem non serviva nulla comunque questa è tutta parte del brochure sembra restare un po' su anche questo come su un Debian Apple molto sempre molto brochuroni anche per gli dell'atari e poi niente di particolare cortissimo 25 pagine una macchina che morì affogata sotto diciamo l'elevato rapporto qualità prezzo del Commodore 64 andiamo a vedere l'ultimo bussolo dell'atari eccoci qua il manuale dell'atari 12XL home computer e arriviamo al bidone dei bidoni dell'atari 12XL il case ricorda vagamente l'Apple 2 però l'architettura rimane chiusa e non è nemmeno espandibile perché funge analizzato di merda non era possibile metterci praticamente a GG nella slot di espansione per poter espandere praticamente la RAM che risultava bloccata a 64k costava tantissimo ecco risultò anche parzialmente incompatibile con l'atari 600-800 e c'era hardware diciamo Atari che praticamente non funzionava su questa macchina non se lo offrò a nessuno andiamo a vedere praticamente cosa c'è in queste 20 pagine di manuale qui viene presentato nello stamp e nello stesso modo la tastiera come si vede anche qui il reaturn sempre molto piccolino guardate come il reaturn come è piccino in confronto a questo shiftone qui o a questo shiftone qui ecco secondo me il reaturn dovevano fare un po' più grande proprio per il fatto che già detto mille volte nel computer a interfaccia a linea di comando il reaturn è sempre stato un tasto importante e a mio avviso su una buona tastiera ergonomica doveva essere molto grande ben visibile preferibilmente fatto a L rovesciata oppure a L normale e quindi più grande era e meglio era cosa c'era su questo computer andiamo a vedere qui praticamente c'erano diciamo tutti i vari spinottieri ora io non mi starò più di tanto a soffermare su cosa c'era questa macchina perché è stata una macchina obiettivamente schifosa indubbiamente vabbè cosa c'era c'era una presa joystick poi le due presse joystick il vario tasto il tasto di accensione una macchina schifosa perché incompatibile con parzialmente incompatibile con 800 600 costosissima ecco una presa tv poi c'era porta seriale praticamente tutte le stesse cose dell'Atari 600 800 tranne che era il fatto che il vano del per metterci la roba in sostanza non funziava va bene il vano cartucce era ficcato qua da questa parte di qua se non vorrei dire non vorrei dire nicchiate e poi cosa c'era un po' niente attaccare la televisione anche qui i vari tasti di comandi erano messi qui quindi c'è un inizio di utilizzo di tasti funzione che per riprendere diciamo invece che metterli in verticale qui vengono un posto in alto riprendendo un po' quello che poi sarà e che era già all'epoca sugli IBM qui si viene un po' spiegati un po' cosa c'era da fare la tastiera qui viene di nuovo presentata sono tutti uguali l'editing dell'interprete a linea di comando con le varie funzioni dei tasti la tastiera con i caratteri semigrafici il font se ci si poteva mettere c'era l'incompatibilità software con compatibilità software con vari giochi vari programmi per Atari 600 800 perché ci avevamo messo mano qui sulla motherboard che non funzionava in parte c'era incompatibilità sui programmi e quindi niente una macchina proprio oscena veramente oscena quindi una macchina che sembrava un po' più grande e voluminosa dava l'idea di essere un Apple 2 ma l'Apple 2 era aperto e invece questo era chiuso e incompatibile parzialmente incompatibile con gli altri imparzialmente incompatibile con i joystick dell'Atari quindi veramente un troiale e quindi niente questo è quanto questo diciamo c'è da dire che a differenza diciamo delle altre due macchine 600 800 che a mio avviso per quanto fossero costose c'era già una buona idea di dare all'utente la possibilità di dare la possibilità di espandere la macchina quindi dare allungare la vita utile della macchina con l'Atari 600 800 espandendolo diciamo portandolo fino a 64k il 600 e a 128k all'800 e non si apisce perché questo che era architettura chiusa forse non lo volevano fare era architettura aperta ma poi fecero un bug e non se ne erano accorti ma comunque questo rimase praticamente così com'era architettura chiusa e costava molto di più addirittura dell'Atari 600 800 quindi praticamente una logica commerciale e anche di produzione praticamente folle comunque è apprezzabile a mio avviso nelle macchine Atari 600 800 che per quanto costassero di più essero meno RAM e costassero appunto di più del Commodore 64 erano app sono da ricordare in senso positivo perlomeno nel mercato americano che anche se lo riguardano un po' per il fatto che l'Atari 600 800 potevano essere appunto parzialmente espansi nella RAM ma questo invece no dopo di questi poi diciamo l'Atari fu comprata smembrata dalla Time Warner e poi verrà praticamente la gestione Tramiel introducendo l'Atari 130XE in cui ci ho fatto un podcast e poi praticamente tutta la linea dell'Atari ST per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao